Buonasera a tutti ragazzi e bentornati a fisicamente. Oggi ho approfittato di questa giornata di malattia per prepararvi un video un attimino più complesso diciamo, però volevo fare onore a Galileo Galilei in quanto oggi 8 gennaio è l'anniversario della sua morte e quindi nulla. Ho provato a raccattare su Wikipedia qualche informazione, però non volevo solo farvi la storia della sua vita, volevo analizzare gli eventi della sua storia e della sua vita in chiave prettamente fisica, quindi voglio mettere in risalto il contributo del suo pensiero a tutta la rivoluzione scientifica che ne è poi conseguita. Mi sono preso degli appunti perché ovviamente sarebbero state troppe cose e non è assolutamente mia intenzione fare concorrenza a Marco Paolini, andatevi a vedere assolutamente il suo spettacolo su Galileo, metterò il link nella descrizione e vorrei fare qualcosa di diverso. Lui ha fatto la storia in interpretazione teatrale ed è il suo lavoro, io cerco semplicemente di spiegarvi qualcosa di più dal punto di vista fisico. Allora, partiamo. Galileo nasce a metà del 1500, è figlio di una famiglia abbastanza agiata, però comunque fino a 14 anni viene messo a fare degli studi un po' provvisori, non era chiara la sua via, era andato in un convento ed è stato novizio fino a quando aveva 14 anni. A 16 anni, suo padre, lui iscrive all'università di Pisa a 16 anni, però lo mette a fare medicina. E già lì Galileo si ritrova in un posto in cui la medicina viene fatta però con il piano di studi, chiamiamolo così, della scolastica, e quindi viene insegnata la medicina dei greci, una cosa molto antiquata, molto molto antiquata. E già lì a Galileo le cose non gli tornano perché il confronto tra la conoscenza scritta nei libri e quello che vede, già c'è una discrepanza e già non gli torna. A 19 anni si avvicina la matematica con Ricci, che è un matematico seguace della scuola di Tartaglia, che è della tradizione di Archimede. Questo sarà molto importante perché la tradizione della scuola di Archimede è quella di non vedere la matematica come qualcosa di assolutamente astratto, ma di vederlo più applicato alla realtà, quindi qualcosa di molto più vicino, diciamo, in soldoni all'ingegneria, a quindi utilizzare la matematica, le formule però per problemi reali. Questa è Ricci della scuola di Tartaglia, povero Tartaglia, in realtà si chiamava Fontana di cognome, ma è stato chiamato Tartaglia perché balbettava. Tartaglia è famoso per il triangolo di Tartaglia, quello che serve per fare, elevare alle potenze i binomi. Vabbè, piccola parentesi. Quindi, a 19 anni viene avvicinata la matematica con queste sue conoscenze all'università e a 21 anni, applicando questa matematica di cui viene accontato, scopre l'isocronia del pendolo. Perché questo fatto è importante? Perché il pendolo è stato sempre una macchia nera nella fisica aristotelica, che era quella che Galileo ha imparato, perché quella era la fisica fino al 1500, ma era quella la fisica da secoli. Aristotele diceva che il posto in cui tutti gli oggetti vogliono andare è il suolo, perché quello è il loro posto naturale, ed è per questo che cadono. È chiaro che quando poi Galileo, la leggenda vuole che si sia distratto in chiesa, vedendo una lampada oscillare, Galileo ha pensato, ok, ma se allora il pendolo, la lampada, esattamente come tutti gli oggetti, cade perché vuole tornare nel suo punto naturale che è il terreno, allora perché oscilla? Quindi perché ha raggiunto il punto più basso, torna su e poi ricontinua a fare un giro, così, questa cosa non gli tornava, ha voluto spendere un po' di tempo per cercare di capire, non ha capito il perché il pendolo si muovesse così, però ha iniziato a farci un'altra domanda, a chiedersi come il pendolo si muovesse, ed è lì che è andato a scoprire che il pendolo ci mette esattamente allo stesso tempo per fare le sue oscillazioni, indipendentemente da quanto è pesante l'oggetto che sta oscillando. Il pendolo è anche il punto di contatto tra l'esperienza che lui poteva avere lanciando oggetti dalla finestra, come tutti quanti pensano che abbia fatto i suoi primi esperimenti, il pendolo è stato il collegamento tra quel tipo di esperimento buttando gli oggetti dalla finestra e il piano inclinato, quello è stato proprio il punto di connessione. E la cosa che gli ha fatto capire che bisognava rallentare un po' le cose, è il fatto che se voi prendete un pendolo, lo portate a un'estremità e lo lasciate oscillare, però a un certo punto, a metà diciamo, ci mettete un chiodo, allora quello che succede è che il pendolo farà così, però una volta raggiunto questo punto, la corda si piegherà intorno al chiodo, e il peso continuerà la sua corsa, andrà a risalire e raggiungerà la stessa altezza del punto iniziale da cui l'avete lasciato cadere. E questo è indipendente da dove mettete il chiodo, il peso raggiungerà sempre la stessa altezza, quindi ha capito che era una questione di altezza, di differenza d'altezza, era lì la direzione in cui lui doveva andare per poter studiare i moti. Chiaro che a quel punto il piano inclinato era la soluzione per poter vedere le cose a rallentatore. A 21 anni scopre l'isocronia del pendolo, e in quello va a Firenze, e a 22 anni scopre o inventa uno strumento per calcolare la densità di un oggetto, ossia risolve quello che viene chiamato il problema della corona di Gerone. Gerone era quel re che aveva chiesto ad Archimede c'è un modo per capire se la mia corona è fatta veramente da 20 monete d'oro o se i miei servitori mi hanno ingannato e invece di fondere tutte le monete d'oro ne hanno fuse solo 18 e in mezzo ci hanno messo un'anima di ferro. Questo era il problema della corona di Gerone. Galileo ha inventato un sistema per poter calcolare la densità degli oggetti. Vedremo che questo sarà molto importante più avanti nella sua vita. A 24 anni, da lezione all'Accademia Fiorentina circa la figura, sito e grandezza dell'inferno di Dante. Questo l'ho scritto perché volevo sottolineare come Galileo non fosse interessato solo alla fisica, alla matematica, ma fosse una mente molto ampia. Lui aveva scritto anche delle note riguardo al tasso, riguardo all'ariosto, delle critiche riguardo, sia positive che negative, riguardo ai loro scritti, ma anche all'epoca si occupa di definire in maniera matematica, in maniera proprio fisica, quanto è grande, che forma ha e dov'è l'inferno di Dante. Questo per farvi capire quanto fosse ampio il suo respiro anche intellettuale, ma come fosse comunque molto forte la sua struttura mentale, la voglia di dare una struttura alle cose. A 25 anni torna a Firenze ad insegnare matematica e nella sua lezione magistrale si fa una cosa mai fatta prima, va contro Aristotele. Lui scrive Altra citazione Questo è il primo punto di rottura con tutta la storia precedente, con tutti i secoli di insegnamento precedente a Galileo. Galileo qua non ha ancora scoperto nulla, non ha ancora spiegato nulla, però sta solo dicendo Fioi, da adesso in poi io non mi fiderò più di quello che mi viene detto, mi fiderò soltanto dell'esperienza e della ragione. Questo è un punto nettissimo di rottura ed è solo l'inizio della rivoluzione. A 27 anni muore il padre, purtroppo lui si deve prendere carico di mantenere fratelli, sorelle, e quindi pagare le doti per poter far sposare le sorelle è molto gravoso per lui, lui ha 28 anni, quindi pochi mesi dopo, va a Padoval e accetta la cattedra di matematica. Prende il posto di Giuseppe Moleti, che tra le altre cose è stato il matematico che ha collaborato alla riforma del calendario su incarico del papa Gregorio XIII. Voi sapete che a metà del 1500... Non mi ricordo se è stato mentre data. Però a metà del XVI secolo c'è stato un cambio del calendario, da quello di Giulio Cesare si è passato al calendario... quindi dal calendario Giuliano si è passato al calendario Gregoriano, in cui si mettevano un po' a posto questo fatto dell'anno bisestile. Comunque si venivano ricalcolate in maniera più esatta la lunghezza del calendario, la lunghezza delle settimane, dei mesi, e quando è come mettere l'anno bisestile per poter avere un anno sufficientemente simile alla durata astronomica della durata della rotazione della Terra intorno al Sole. Scusate per la parentesi. Pochi mesi prima di quando lui va a lavorare a Padova viene arrestato a Venezia Giordano Bruno. Giordano Bruno è un'altra figura chiave della rivoluzione, è stato quello che ha messo forse, secondo me, la pulce nell'orecchio anche a Galileo. Lui è stato il primo ad ipotizzare la presenza di infiniti mondi, quindi non mettere più la Terra al centro dell'universo, ma immaginarsi infiniti altri mondi. Io durante il mio dottorato ho scritto una tesi di laurea, la copertina del primo capitolo era la foto di Giordano Bruno a Roma. Perché? Perché io ho studiato i pianeti extrasolari e non potevo fare una dedica a Giordano Bruno che secoli e secoli fa aveva già immaginato la presenza di altri mondi, che sono quelli che andiamo a cercare adesso con i telescopi. A 29 anni e negli anni successivi, mentre sta insegnando matematica a Padova, lui collaborerà con Mazzoleni, che è un artigiano, però se l'è preso lui in bottega a lavorare, con lui costruirà un sacco di nuovi macchinari, tra cui molti brevetti ottenuti dal Senato Veneto, come delle pompe d'acqua per poter portare l'acqua ai piani superiori, ma molte altre cose, ovviamente Galileo era un personaggio molto importante per Venezia, perché a Venezia c'era l'arsenale, quindi tutti questi brevetti che hanno sicuramente applicazioni militari erano più che benvenuti per la Repubblica Serenissima. Aspetta che c'è un Vespin sullo schermo. A 38 anni pubblica i primi risultati con pendoli e i piani inclinati. Quindi qui è il momento in cui lui inizia a pubblicare le leggi del moto accelerato della caduta dei gravi. A 40 anni pubblica questi primi risultati, prevalentemente con lettere a conoscenti, e a 40 anni, nel suo quarantesimo anno di età, succede anche qualcosa di molto importante. Succede che nel cielo si vede una stella nuova, una stella che prima non si vedeva, all'improvviso appare, e questa stella viene chiamata appunto stella nuova, che in realtà, adesso ne sappiamo, essere una supernova, ossia una stella che muore e nel morire esplode. Questa stella oggi giorno è conosciuta come supernova di Keplero, perché Keplero, furbetto, ha speso diversi mesi della sua vita a studiare questa supernova, questa stella nuova. Questa stella nuova è durata per 18 mesi, quindi è stato un evento transiente, e prima non c'era, poi all'improvviso si vede molto luminosa, era molto più luminosa di Venere, o di Giovedi, come si possono vedere la sera, quindi immaginatevi di vedere all'improvviso nel cielo per un anno e mezzo un oggetto molto, molto, molto brillante, e sia Grilleo che i suoi contemporanei notano una cosa molto importante. Notano che questa stella non si sposta, tecnicamente si dice che appara all'asse zero, questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che muovendosi intorno al Sole, una stella, supponendo che la stella sia qui e qui c'è l'orbita della Terra, la stella si dovrebbe vedere a angoli diversi a seconda che io sono in questo momento, in questo punto dell'orbita, diciamo in estate, o in quest'altro punto dell'orbita, diciamo in inverno. La stella è sempre qua sopra, però vedendola dalla Terra, prima dovrei vederla con un angolo inclinato leggermente verso destra, mentre in estate dovrei vederla con un angolo piegato leggermente a sinistra. Più la stella è vicina, più questo cambiamento di angolo è pronunciato. Più la stella è lontana, più sarà piccola questa deviazione, perché idealmente se la stella è posta all'infinito, allora queste due rette, che sono le direzioni in cui io dalla Terra guardo la stella, diventano parallele. Questo angolo è chiamato parallasse e Galileo e i suoi contemporanei si accorgono che questa stella ha parallasse zero. Questo cosa vuol dire? Che la stella è molto, molto lontana. Questo vuol dire anche che la stella non appartiene a quel mondo chiamato sublunare, ossia quel mondo che nella concezione aristotelica dell'universo era il mondo perturbabile, deformabile, imperfetto, l'unica cosa che può cambiare nel tempo. Questa stella apparteneva al mondo superlunare, quindi a quella parte dell'universo che è incorruttibile, che non può cambiare, è statico, è perfetto. Quindi si viene a creare questo paradosso. Nella fisica aristotelica il mondo superlunare dovrebbe essere perfetto, ma vengo a vedere un nuovo oggetto che dura solo per sei mesi, esattamente, cosa che va a provare la mutabilità del cielo, quindi va a far cadere questa teoria di Aristotele. Ah sì, una curiosità, c'erano a disposizione a quel tempo già le misure di Tico Brahe, che era un astronomo danese che ha costruito uno dei primissimi strumenti ad alta precisione per la misurazione della posizione delle stelle. Non ha costruito uno strumento ottico, lui aveva costruito un affare enorme che però poteva, con cui poteva vedere, misurare con una precisione molto alta per l'epoca la posizione delle stelle. Con questo lui ha costruito un sacco di cataloghi, però si è reso conto appunto che questa parallasse dalla Terra si poteva effettivamente misurare, ed è stata una delle primissime misure della distanza delle stelle. Con questi stessi cataloghi il suo allievo Keplero è stato poi in grado di capire che le orbite dei pianeti intorno al Sole non è un cerchio, non è un'orbita perfettamente circolare, ma sono in realtà degli ellissi, ossia degli ovali. Vuol dire che l'orbita di un pianeta intorno al Sole non è un cerchio, ma è leggermente schiacciato, è un ovale. Come ha fatto Keplero? L'ha fatto con queste misure ad altissima precisione del movimento dei pianeti in funzione del tempo. Keplero non aveva il telescopio, o cannocchiale, come si chiamava all'epoca. Aveva semplicemente delle misure molto, molto precise della posizione degli astri e nonostante tutto è stato in grado di fare il suo lavoro di astronomo. Petagami son perso, la mutabilità dei cieli. Si inquisiva anche di quelle com'è? In quel tempo, Galileo viene comunque attaccato non solo per questa sua rottura con il passato, per questo suo desiderio di smentire le tesi di Aristotele, quindi far cadere tutta la costruzione della fisica aristotelica, ma viene attaccato, viene inquisito anche come eretico per aver sostenuto che gli astri determinavano le scelte dell'uomo. Galileo nella sua vita ha fatto un sacco di oroscopi. Non era un astrogogo, però ha fatto oroscopi. Bisogna fare una piccola parentesi storica. A quel tempo, tutte le persone di scienza, i medici, i matematici, tutti facevano oroscopi. E non dobbiamo pensare che l'oroscopo era inteso come adesso, leggiamo la rubrichina sul giornale, vediamo cosa mi succederà. All'epoca l'oroscopo era vissuto come qualcosa di molto più profondo. Le persone erano molto attente al movimento degli astri e loro non potevano vivere senza il pensare il movimento degli astri fatto da Dio è perfetto. Perché Dio ci ha pensato, Dio l'ha fatto così. Se l'ha fatto così, c'è sicuramente un motivo ed essendo l'uomo opera del Signore, opera di Dio, non può aver precluso un movimento tale degli astri per poter influire sulla vita degli uomini. Quindi l'astrologia era comunque vista come qualcosa di scontato, di normale. È chiaro che deve essere così. È chiaro che il movimento degli astri hanno un motivo ed essendo noi uomini al centro del mondo il motivo siamo noi. Quindi fammi capire come sarà il mio futuro a seconda del movimento degli astri. Però comunque Galileo viene denunciato. Ovviamente sono prevalentemente denunce fatte da suoi ex collaboratori. Probabilmente si volevano vendicare. Però comunque rimane il fatto che c'è un'altra faccia della medaglia. C'è come una doppia identità di Galileo. Perché l'uomo che ha inventato la scienza moderna fa oroscopi? La risposta è semplicissima. Galileo aveva bisogno di soldi. Aveva bisogno di mantenere se stesso, di mantenere la sua famiglia, di mantenere la sua nuova famiglia perché aveva un amante, aveva anche dei figli e lo stipendio dell'università di Padova non era a sufficienza. Quindi per denaro gli avrebbe detto tutto. Avrebbe anche detto, sostenuto, che gli astri determinavano le scelte dell'uomo. ma molto probabilmente non ci credeva. Era pieno di debiti, aveva la famiglia e le sorelle da mantenere. Tra le altre cose, aveva così tanto bisogno di soldi che non disdegnava di dare lezioni private ai rampolli delle famiglie patrizie veneziane. Quindi questo rientra nella semplicemente nel bisogno da essere umano di Galilei. Tornando alla questione degli oroscopi, anche Keplero e Brahe hanno fatto l'oroscopo. Sono entrambi astronomi famosissimi anche per l'epoca, non solo per ora. Keplero è quello che ha detto, ha fatto le tre leggi di Keplero, ha avuto l'intuizione che le orbite dei pianeti intorno al sole fossorelittiche e non circolari. Brahe è stato il primo astronomo di Danimar che ha costruito un osservatorio come Lancioneron all'epoca. Possiamo dire che Brahe è stata la NASA per la disposizione di fondi che aveva all'epoca. E anche Newton non faceva oroscopi ma si impegnò in modo molto consistente in studi di alchimia. Quindi tutto questo vi fa capire che all'epoca non c'era una chiara distinzione, non c'era conflitto tra una visione magica e simbolica della realtà e la volontà di matematizzare tutto ciò. Le cose erano perfettamente, potevano vivere perfettamente in simbiosi e non c'era nessun problema. Il contrasto avverrà secoli più tardi quando si inizierà a cercare di dare le distanze tra un mondo simbolico, un mondo mistico, molto magico se vogliamo e la scienza vera e propria e quindi tutta la matematica che ci sta dietro. A quel tempo, stiamo parlando di quando Galileo aveva 40 anni quindi all'inizio del 1600, Galileo, esattamente come Keplero, è un convinto copernicano, tra poco vi spiego che cos'è, che cosa vuol dire, ma a differenza di Keplero lui non lo ammette ancora pubblicamente perché non ne ha ancora le prove sufficienti, quindi non si espone perché sta ancora cercando la prova del 9 che gli serve per dimostrare cosa? Che Copernico aveva ragione. Copernico, quasi un secolo prima, è stato il primo a proporre un'altra interpretazione della realtà, ossia quella che non fosse la Terra al centro dell'universo e tutto quanto gli girasse, le girasse intorno, ma che sia il Sole al centro e fosse la Terra insieme agli altri pianeti a girare intorno al Sole. La teoria precedente era l'universo di Tolomeo, quindi la visione tolemaica dell'universo e quella geocentrica, la visione copernicana, quindi quella nuova, e quella eliocentrica. Però all'epoca pochi avevano letto il libro di Copernico, quasi nessuno ci andava dietro, quindi, però Galileo sa che è lì la strada, è lì la strada giusta, però non aveva ancora le prove pratiche con cui poter confutare queste ipotesi e potersi esporre pubblicamente. 45 anni, Galileo ha notizia del cannocchiale e lo riproduce, lo potenzia a Padova. Mettiamo subito in chiaro una cosa, Galileo non ha inventato il cannocchiale, il brevetto del cannocchiale è stato depositato tre anni prima come vetro prospettico olandese da un ottico tedesco naturalizzato olandese che aveva per la prima volta costruito un apparecchio ottico in grado di ingrandire, aveva un ingrandimento di tre, quindi zoomava di tre per, se vogliamo metterlo con le macchine fotografico e cellulari di oggi, quindi era qualcosa di molto basico, però è stato quello il primo strumento ottico. Galileo probabilmente ne è venuta a conoscenza, frequentando i salotti di Venezia avrà sentito quasi sicuramente questa notizia di un cannocchiale da un commerciante che veniva da Rotterdam, per esempio, questo è quello che mi immagino io, ha sentito come era costruito e l'ha riprodotto. Antitesi al tradizionale punto di vista della conoscenza data, alimentazione e percezione dell'uomo. Ok. una cosa molto importante a questo punto è capire che Galileo è stato il primo ad utilizzare uno strumento, il cannocchiale, non solo per avvistare prima il colore della bandiera delle navi che stavano veleggiando verso Venezia, che è stato comunque sicuramente quello che gli ha fatto meritare il raddoppio del suo stipendio e una gratifica vita dal doge. Però è stato il primo a utilizzare questo strumento per cercare quello che lui, per trovare quello che lui stava cercando, ossia le prove del fatto che non è la Terra al centro dell'universo ma è il Sole e la Terra si sta muovendo. Questa cosa è molto difficile da capire per noi che siamo abituati a prendere uno strumento per misurare qualsiasi cosa. Dovete immaginarvi che all'epoca le persone si fidavano solo dei loro occhi solo dei loro occhi e questo era l'unico modo con cui la gente accettava delle spiegazioni. Se tu mi dici io ho visto la Madonna piangere l'hai visto con i tuoi occhi perfetto ti credo ma se tu mi dici io vi ho scoperto una nuova stella con uno strumento che ho inventato io chiamato cannocchiale nessuno ti avrebbe mai creduto perché era solo l'esperienza diretta quella che contava tutto il resto erano frottole è stato molto difficile per Galileo prima ancora di far capire i suoi risultati far ammettere alle persone che quello che lui vedeva col suo telescopio era comunque qualcosa di vero qualcosa che era comunque attendibile era una prova questa è stata un'altra piccola rivoluzione che Galileo ha introdotto quindi far entrare rientrare gli strumenti nella scienza concepirli come fonte di verità non fu facile impresa in quel tempo lui quindi inizia a dedicarsi all'osservazione astronomica quindi utilizza il cannocchiale con un nuovo impiego non per guardare a terra ma puntandolo verso le stelle e fa il suo più grande impegno nelle osservazioni dei monti lunari e dei satelliti di Giove a 46 anni quindi l'anno dopo Galileo pubblica queste sue scoperte nel Siderios Nuncius e dedica i nomi delle quattro lune dei quattro satelliti di Giove a Cosimo II dei Medici infatti le lune i satelliti di Giove lui li chiama Medicea Sidera lo fa in maniera molto molto cinica ma Galileo aveva un unico obiettivo lui voleva tornare a Firenze la Serenissima l'ha elogiato con un sacco di riconoscimenti soldi tutto quanto però Galileo non vuole restare a Venezia Galileo vuole andare a Trieste ed è per questo che fa il ruffiano con i medici ed effettivamente Galileo torna a Firenze perché viene invitato gli viene offerto una cattedra torna come professore di matematica e di filosofia perché Galileo chiede di essere non solo professore di matematica ma anche professore di filosofia perché lui sa benissimo che quello che lui ha appena scoperto quello su cui lui deve andare deve andare a dar battaglia non è la fisica che al suo tempo non esiste lui deve dar battaglia ai filosofi perché Aristotele Aristotele era un filosofo e la fisica in quel momento lo fanno i filosofi quindi è per questo che lui ha bisogno di questo titolo ha bisogno di essere allo stesso grado dei filosofi che erano comunque visti al di sopra dei matematici per poter dar battaglia ad armi pari oltre a questo viene anche esentato dall'insegnamento ed è proprio questo il motivo per cui lui avrà un sacco di tempo che potrà dedicare alle ricerche scientifiche immediatamente riceve critiche Alciderio Snuncius viene accusato di plagio del cannocchiale viene accusato di plagio del cannocchiale da adesso ho perso il nome di un milanese ve lo trovo subito stiamo a almi dove sei? capra non mi chiedetemi il nome si chiama capra questo no non l'ho trovato viene accusato di plagio del baldassarre capra baldassarre capra viene accusato di plagio per aver copiato il telescopio ma in realtà baldassarre capra è arrabbiato con lui perché gli aveva copiato il compasso militare il compasso militare è stato uno dei tanti prototipi che aveva fatto Galileo e gliel'aveva forse rubato a questo baldassarre capra il compasso militare è uno dei primissimi strumenti di calcolo e serviva per fare dei calcolare dei rapporti calcolare delle scale ridurre le mappe ma serviva anche per un sacco di cose assomiglia a un compasso con un pendolo nel mezzo quindi viene subito attaccato l'ho riperso il non cius critica accusata di plagio del cannocchiale come anni prima per il compasso militare e viene messa in dubbio la verità delle sue scoperte perché si sosteneva che le lenti del cannocchiale potessero non solo ingrandire ma anche deformare la realtà tornando al discorso che è stato proprio difficilissimo per Galileo far accettare l'utilizzo di uno strumento a prova di come prova scientifica sarà Keplero qualche anno dopo confermare la presenza dei satelliti di Giove con un cannocchiale costruito da Keplero stesso quindi questa Keplero è stato tra virgolette un 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 supporto ha sempre supportato Galileo e per fortuna il fatto che anche lui avesse visto le stesse cose andava a consolidare l'esperienza di Galileo 47 anni Galileo inizia ad essere indagato dalla chiesa non solo per le sue scoperte quindi per i monti lunari e per i satelliti di Giove ma perché inizia in maniera molto sistematica a dare prove contro la fisica aristotelica perché i monti lunari e le lune di Giove erano già degli elementi contro la fisica aristotelica beh innanzitutto perché se l'ombra dei monti e delle valli della luna cambiano vuol dire che c'è una stretta dipendenza con il sole e non con la terra quindi la luna non è in funzione solo della terra ma cambia in funzione del sole e poi le quattro lune di Giove orbitano intorno a Giove stesso non si separano mai come famiglie felice e se questi quattro oggetti che vagano quindi non sono fissi come le stelle se vagano sono pianeti per definizione ottimologicamente pianeta è oggetto vagante quindi ci sono quattro nuovi pianeti e non si trova traccia di questi quattro pianeti nella Bibbia erano sette i pianeti ammessi dalla Bibbia e in più questi quattro nuovi pianeti orbitano intorno a Giove non intorno alla terra quindi Grellea ha dimostrato con i satelliti di Giove che esiste un altro centro diverso dalla terra queste cose iniziavano a scardinare la fisica aristotelica gli altri elementi che va a pubblicare sono uno scritto sui corpi che affondano in acqua e affondano a seconda solo del loro peso specifico e non a seconda della forma e della sostanza della materia come asserito da da Aristotele parla delle macchie solari che lui vede a favore della rotazione del sole il sole ruota il sole è perfetto perché è sopra la luna quindi non può cambiare inizia a scricchiolare il sistema aristotelico quindi il sole diventa imperfetto va a cambiare anche lui il sole ruota esattamente come potrebbe a questo punto ruotare la terra fino a quel momento nessuno aveva mai pensato che la terra potesse ruotare ha scoperto anche che mercurio e venere che sono due pianeti che orbitano loro pensavano intorno alla terra ma lui vede che non sono dei puntini fissi hanno le fasi esattamente come la luna non sono sempre dei dischi completamente pieni ma possono avere o mezza faccia illuminata o possono presentarsi solo come delle falci e questo lo fanno solo giove solo mercurio e venere giove non lo fa quindi vuol dire che c'è qualcosa di diverso c'è qualcosa in più che sta mancando alla ricetta di di aristotele in cui c'è la terra al centro e tutto pianeti e sole stanno girando intorno fino a 51 anni quindi passano una decina d'anni 5 anni scusate galileo difende l'eliocentrismo asserendo tutte queste portando tutte queste prove asserendo che l'eliocentrismo è la teoria giusta inoltre pubblica un lavoro contro l'orror vacui di aristotele che cos'è questo orror vacui aristotele non pensava non concepiva il vuoto lui credeva che tutto fosse pieno e gli oggetti andavano a riempire questi vuoti e questo era l'unico modo in cui poteva interpretare la realtà Galileo insieme al suo lievo Torricelli fa invece degli esperimenti in cui prova esattamente il contrario quello che lui fa è cercare di pompare dell'acqua lungo un tubo questo tubo è alto una decina di metri l'acqua viene pompata quindi immaginatevi un tubo trasparente voi lo mettete in una vasca con molta acqua in un laghetto con un sacco di acqua iniziate a pompare l'acqua del livello del lago inizierà a salire lungo questo tubo sale 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 raggiunti i 10 metri supponendo che il tubo è anche più è molto più lungo arrivati a 10 metri l'acqua non sale più anche se io continuo a pompare quindi tra il pelo dell'acqua 10 metri sopra il livello del lago e il resto del tubo lì si va a formare il vuoto quindi l'oror vacui di aristotele non esiste torricelli anni dopo ripeterà questo esperimento con il mercurio invece che con l'acqua e raggiungerà un'altezza di 76 centimetri questo è il prototipo di barometro torricelli è il padre del barometro e il modo in cui si riesce con quel barometro con quel barometro mercurio a misurare la pressione atmosferica 76 centimetri di mercurio equivalde a una 760 millimetri che sono i millibar che vengono utilizzati per comunità di misura della pressione non sono altro che l'altezza massima di una colonna di mercurio prima che inizi il vuoto all'interno di una cannula a 60 anni Galileo inizia a lavorare ai suoi dialoghi a 66 anni pubblica dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo questi due massimi sistemi sono il modello tolemaico terra al centro tutto il resto gira intorno e il modello copernicano c'è il sole al centro e la terra sta girando intorno al sole questi sono i due sistemi che lui mette a confronto lo fa dividendo il suo libro in quattro giornate e utilizzando tre personaggi due che sostengono il modello copernicano e uno che sostiene il modello tolemaico nella prima giornata fa appunto un confronto diretto tra il sistema copernicano eliocentrico e il sistema tolemaico ma anche aristotelico geocentrico quindi sole al centro contro terra al centro nella seconda giornata parla della rotazione della terra che secondo lui è quello che genera l'alternanza tra giorno e la notte e per spiegare questo fa uso di quel passaggio celeberrimo dell'esperimento del gran naviglio riassumendo in breve cosa dice Galileo dice Galileo che se voi vi chiudete nella stanza più bassa più chiusa di una nave attraccata al porto e lì avete farfalle avete un 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 alambicco che un un fiasco o qualcosa che sta perdendo goccia per goccia del liquido e altri simili esperimenti Galileo dice che se a questo punto voi fate partire la nave e la nave sta viaggiando a velocità uniforme e non sta ovviamente andando di qua e di là per via di un mare di un mare grosso se la nave sta procedendo a velocità uniforme voi non siete in grado di capire da quello che vedete quindi dal volare di insetti di farfalle e dal cadere di questa goccia in un cattino sottostante non siete in grado di capire se siete ancora fermi nel porto o se la nave sta viaggiando a velocità uniforme questo gli serve per dire signori la terra può benissimo star girando perché perché anche se sta girando finché gire a velocità costante io non potrò mai notare un effetto io lancerò una pietra questa pietra cadrà comunque sopra di me non andrà a cadere più indietro perché nel frattempo la terra ha girato e io mi sono spostato quindi deve far capire alle persone che la terra si può muovere benissimo anche se noi non lo percepiamo e perché è così perché gli uccelli perché i palazzi perché le macchine noi all'epoca i carri l'atmosfera tutto quando si sta muovendo tutto insieme ed è a velocità costante quindi noi non potremo mai capire la differenza tra una terra ferma e una terra in movimento da quello che percepiamo intorno a noi a meno che la terra non inchiodi o non si non si metta a ruotare più velocemente noi vedremo sempre le stesse cose e questo è l'argomento per dire la terra può muoversi benissimo nel terzo giorno Simplicio l'aristotelico quello un attimino più fessacchiotto arriva in ritardo perché la sua gondola è rimasta arenata nei canali di Venezia dovuta alla bassa marea e qui semplicemente Galileo inizia a parlare del moto del mare delle maree per supportare il sistema